Il problema della caserma di Piazza Repubblica a Varese ovviamente è un problema che riguarda soprattutto la città di Varese ma avendo una storia alle spalle ormai così lunga e coprendo un ruolo proprio centrale nella logistica interna della città in realtà interessa tutto il territorio della provincia, quindi anche la provincia comunque farà parte di questo accordo di programma anche perché dove c'è attualmente l'università, quindi l'ex collegio Sant'Ambrogio così come è conosciuto dei Varesini è di proprietà della provincia e in qualche modo dovrà entrare nella ristrutturazione completa della piazza quindi ovviamente il ruolo urbanistico principale aspetta il comune, il ruolo determinante è stato quello della regione con l'intervento del Presidente Maroni che mettendo a disposizione delle risorse oltre che proprio all'interesse diretto è riuscito a sbloccare la situazione e la provincia darà il suo contributo come fa sempre in queste situazioni mi auguro veramente che possa al più presto partire la ristrutturazione e l'intervento finale perché con questo ultimo intervento la città di Varese veramente negli ultimi vent'anni possiamo dire da quando è iniziata l'era dei sindaci della Lega ha subito una trasformazione totale che ha trasformato Varese in una vera città